Un ambiente incontaminato nel quale la natura dà spettacolo ed invita ad immergersi dimenticando i ritmi stressanti della vita moderna. Il parco naturale delle Dolomiti Friulane è un lembo di paradiso, un patrimonio di tutta l'umanità la cui integrità va protetta e preservata. In questo contesto si inserisce acqua Dolomia, l'acqua oligominerale che sgorga nel parco naturale delle Dolomiti Friulane. Il parco naturale Dolomiti Friulane è il parco regionale più ampio della regione Friul-Venezia Giulia, è stato istituito nel 1996 con la legge 42. Sono oltre 37.000 ettri di territorio protetto. Nel 2009 questo ambito, assieme ad altri territori delle province di Trento, Bolzano e Belluno, è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Conservare l'ambiente, salvaguardare la fauna, proteggere il territorio per poterlo riconsegnare integro a chi ci succederà. Il parco nazionale delle Dolomiti Friulane nasconde tesori che, gestiti in modo adeguato, possono rappresentare anche una grande opportunità per chi vive in questa terra. Il valore dell'acqua è un territorio ricchissimo, ricchissimo d'acqua, di corsi d'acqua che a volte sono anche impetuosi, ma che nel tempo hanno dato, a suo tempo hanno dato il valore all'economia di queste zone. L'acqua che scende impetuosa nei letti dei torrenti, che compare improvvisa e si tuffa dagli alti di rupi, è la grande risorsa del territorio. Grazie all'intuizione di un gruppo di imprenditori, la storia di questa regione si è arricchita di una nuova realtà che ha saputo condividere questa ricchezza nell'assoluto rispetto dell'ecosistema che la custodisce. Dolomia nasce come iniziativa di alcuni amici imprenditori qualche anno fa per valorizzare una di quelle che sono le risorse fondamentali di quest'area, di questa vallata, la Valcellina. Il problema più importante che si presentò nel momento in cui si decise l'avvio dell'iniziativa fu di come convogliare quest'acqua che sborgava all'interno del parco naturale presso uno stabilimento. In questo senso si lavorò parecchio per studiare la soluzione più appropriata, proprio per evitare l'impatto ambientale. Quando si realizzò l'opera di presa si intervenne in collaborazione con il parco e quindi l'opera di presa fu creata aprendo la montagna in una parte e dopodiché però tutto si ricostruì o si risistemò esattamente com'era, quindi con un impatto ambientale pressoché zero. Grande attenzione all'ambiente anche nella scelta delle confezioni. L'adozione di packaging sempre meno impattanti e l'individuazione di procedure ecocompatibili sono le scelte che caratterizzano la strategia di acqua Dolomia. Il rispetto dell'ambiente non può disgiungersi dalla massima attenzione nei confronti del consumatore. Ogni goccia di acqua Dolomia può essere bevuta con la più assoluta tranquillità, grazie al territorio incontaminato da cui proviene, ma grazie anche a chi ogni giorno vigila sulla qualità del prodotto. La nostra è una delle poche aziende che è dotata di un laboratorio interno, io infatti qui in azienda mi occupo della gestione del laboratorio e delle analisi quotidiane. Portiamo avanti il controllo dell'acqua, della sorgente e dell'imbottigliato ogni giorno. Un'acqua particolarmente povera di sodio ma dalle caratteristiche nobili, ideale per tutti, dai neonati ai bambini agli sportivi alle persone che seguono una dieta iposodica. Un'acqua che purifica e contribuisce all'equilibrio dell'organismo.